a casa. C'è molto da dire su questa cosa, quanti di voi hanno perso amici il sabato notte dopo aver pevuto troppo, dopo aver alzato il gomito? Io penso che è un problema grevissimo che a 18, 19, 20 anni, 30 anni, 35 si perde la vita per ste stronzate, io li chiamo strozzate. Ci sono molti che mi vanno a dire tanto Paolo non fare niente per i giovani, quelli sono fatti così, non vogliono cambiare, ma io non credo, i giovani hanno le palle e devono dimostrare alla gente che non crede dei giovani, che i giovani possono crescere perché hanno la voglia di crescere, ma lo dobbiamo fare in modo sensato, non sono qui a dire che non si deve bere, sono qui a dire che non si deve abusare, non dobbiamo fare uso di drogne, ma soprattutto dobbiamo fare una cosa seria, usare la testa subito dopo che ci siamo divertiti. E questo è il video che proponiamo oggi, lo facciamo partire il video? E subito dopo il video tanta bella musica con il DJ set di Officine Silenziose.